Diamo inizio ai lavori. Un benvenuto a tutti, partecipazione numerosa che credo sia un titolo di merito del professor Archetti al quale vanno sentiti ringraziamenti per l'organizzazione di questo pomeriggio. Il professor Archetti che è il curatore anche degli atti che rappresentano un po' la conclusione di quel convegno che si svolse a Brescia dall'1 al 6 dicembre del 2014 e che al tempo stesso con questa iniziativa conclude anche il progetto ideato per Expo 2015 sulla civiltà del pane, storia, cultura, tecnologie produttive, consumi. Avremo modo di riflettere con i relatori che si interneranno poi a questa tavola rotonda sul significato di questi atti che si presentano corposi, tre volumi e il cui merito dicevo va al professor Archetti sia perché ha organizzato il convegno sia perché è il curatore anche dell'opera. Credo volentieri la parola al dottor Matteo Fornara che dal punto di vista della collocazione europea credo che sia in linea di continuità con l'intervento precedente. Dal 1995 il dottor Fornara svolge la sua attività presso la Commissione europea e in tanti anni, in 11 anni di residenza a Bruxelles si è occupato di dialogo sociale, piccole e medie imprese, negoziati commerciali, allargamento dell'Unione europea e relazioni di Mediterraneo e con la regione del Golfo Persico, viaggiando per la Commissione in 32 paesi. C'è da invidiarlo da questo punto di vista. Dal 2014 lavora a Dispra presso il Centro Comune di Ricerca che comprende l'Istituto per la Protezione e la Sicurezza dei Cittadini, l'Istituto dell'Ambiente e la Sostenibilità, l'Istituto per la Salute e la Protezione del Comune. Per quanto riguarda il suo impegno presso ESPO 2015 lo sentiremo direttamente da lui proprio perché ha collaborato attivamente a quella che è stata la manifestazione che in quella sedia si è svolta. Dottor Fornara, prego. Grazie. Ringrazio anch'io, come ha fatto il collega Marasà, gli organizzatori del convegno in regione Lombardia per aver dato un chiaro contesto europeo agli studi e al convegno di oggi sulla civiltà del pane. Il contesto è anche quello ovviamente di Expo che è stato citato nel quale il padiglione dell'Unione Europea che si trovava di fianco a Palazzo Italia aveva una storia il cui tema dominante era il pane. Una storia che si chiamava La Spiga d'Oro. Aveva come pubblico preferenziale i bambini e i giovani attraverso due personaggi Alex e Silvia che sono stati citati. Alex era l'agricoltore, Silvia la ricercatrice. Il messaggio che c'era dietro alla nostra esibizione era quello del pane come elemento che tiene insieme la tradizione e l'innovazione, l'agricoltura e la scienza anche di fronte alle sfide che abbiamo oggi a livello globale e anche a livello locale. Il cibo è il tema, la sicurezza alimentare è stata citata anche da Bruno, la lotta agli sprechi, le risorse naturali, la gestione delle risorse, la sostenibilità. Quindi per noi l'Expo è stato un evento di promozione, come ha ricordato il Rettore nel suo intervento, ma anche un evento di grande, se vogliamo, promozione scientifica. Abbiamo organizzato durante l'Expo circa 210 eventi a carattere scientifico, tra l'altro abbiamo qua la collega Speroni che se ne è occupata direttamente. e questi eventi hanno prodotto, nell'ambito di questi eventi sono stati prodotti risultati di valore come gli studi di cui parliamo oggi, ma anche dei documenti che poi a livello istituzionale sono stati assunti a livello europeo, ma anche in collaborazione con le Nazioni Unite e sono diventati un po' riferimento per le politiche a livello globale sui temi di Expo. Ci fa piacere dirlo anche da un punto di vista più locale, perché noi lavoriamo per il Centro Comune di Ricerca che è basato a Ispra, in Lombardia, in provincia di Varese, che ha una forte competenza scientifica sui temi del cibo, dalla sostenibilità, la salute, la nutrizione e la sicurezza alimentare. Per questo noi siamo anche interessati a quello che a Milano sta succedendo nel post-Expo. I progetti che si stanno portando avanti sono di estremo interesse per noi e tra questi cito soprattutto Human Technopol che sta per vedere una realizzazione concreta in questi mesi e entro l'inizio dell'anno prossimo. Per noi questi progetti uniti alla candidatura che Milano ha portato avanti, sta portando avanti per ospitare l'Agenzia Europea del Farmaco, costituiscono una solida base di quello che Milano può vantare essere il post-Expo. Concluderei questo con un riferimento letterario, se posso. Per me personalmente il riferimento tra pane, Expo, tradizione e innovazione, dal punto di vista della letteratura, è sempre stato il libro di Predrag Matvejevic, uno scrittore europeo, perché è bosniaco, però ha lavorato, ha studiato in Croazia, in Francia, in Italia, quindi nell'Unione Europea. Purtroppo è mancato quest'anno, però oltre alla sua opera principale che era il Breviario Mediterraneo, che probabilmente molti di voi hanno sentito, il libro Pane Nostro contiene delle cose molto interessanti, è un po', diciamo, la versione letteraria dei vostri studi sulla civiltà del pane. In una pagina del libro si legge, il passato non lascia sempre le sue tracce in eredità. L'origine e l'inizio talvolta sono fra loro contigui e talvolta invece si separano. I cereali trasportati dall'est e dal sud hanno contribuito all'incremento del numero degli abitanti dell'Ovest e del Nord, hanno contribuito alla creazione dell'Europa. Il pane ha modificato il destino di terre, popoli e stati. E penso che queste parole rappresentino un po' quello che è il senso del convegno di oggi, ma anche il senso del lavoro che Marasà ha citato sul pane a livello globale e anche di quello che Expo ha lasciato come eredità e lascerà poi nel futuro con i progetti che si stanno sviluppando. Grazie. Grazie al dottor Fornara per il suo saluto e le sue riflessioni anche per questo collegamento con la dimensione letteraria.